Ho raccontato già più di una volta che per chi studiava all'Università di Roma glottologia negli anni 40, 50, 60. L'incontro con il professore che all'epoca appunto teneva questo insegnamento, Antonino Pagliaro, comportava fin dai primi, non dalla prima lezione, ma dai primi minuti di lezione, l'evocazione del nome di Saussure e delle sue nozioni di langue, langage e parole e di sincronia e diacronia immediatamente. Pagliaro che parlava normalmente in piedi, immobile, usava però rompere l'immobilità per servirsi della lavagna, di cui faceva grande uso e si volgeva verso la lavagna e tracciava gli assi che ammiravamo molto, l'asse della sincronia orizzontale e dell'asse della diacronia. E quindi questo nome per noi che studiavamo, ascoltavamo le lezioni, era abbastanza ovvio fin dall'inizio. Devo dire, come sa chi conosce la storia della cultura linguistica italiana, che la cosa era non comune, non comune in Italia, non comune per la verità anche nel resto d'Europa, per motivi diversi, di persistente estraneità al cours del linguistico generale e alla linguistica sussuriana in Germania e per un affiochimento della presenza di Saussure nella stessa tradizione francese per tutti gli anni 50, fino all'inizio degli anni 60, come ha spiegato bene una volta Georges Mounen. In Italia era inconsueto questo richiamo dato da Pagliaro come ovvio, peraltro. il distinto glottologo ginevrino veniva chiamato qualche volta per non ripetere il nome, il cognome, il nome di Saussure. Questo è stato il primo incontro e quindi questo ha determinato poi andare a cercare il cur e leggerlo e cominciare a leggerlo e a capirci qualche cosa. A rafforzare questo incontro c'era l'insegnamento di un altro linguista meno noto, morto prematuramente, rimasto all'ombra di Pagliaro, si chiamava Mario Lucidi, era una persona di ingegno assolutamente straordinario, fuori del comune, non solo eccellente linguista, ma anche matematico, anche logico. Fin dagli anni 50, quando io studiavo, Lucidi aveva scritto già, ha scritto pochissimo, aveva già scritto un notevole saggio sulla nozione di arbitraria di usigne e già in questo lavoro dei primissimi anni 50 e poi soprattutto nelle conversazioni, sosteneva quella che sembrava allora una tesi quasi molto paradossale, strana, comunque isolata e sosteneva che secondo lui in alcuni passi celebri nella discussione sull'arbitrarietà del segno, che si leggono nel corso di linguistica generale, gli editori dovevano avere equivocato le parole di Saussure, insomma poneva un problema di revisione del testo e di ritorno alle fonti e ricordo la sua gioia quando arrivò in istituto nel 1957 una copia del libro fondamentale, tutt'ora di Robert Godel, le fonti manoscritte del corso di Saussure, che pur con grandi cautele riprendeva, intanto rispondeva al bisogno di verificare sugli appunti degli alunni che gli editori del Cura avevano avuto sotto gli occhi, la bontà del lavoro editoriale e con molta cautela avanzava qualche dubbio su qualche mancanza di riscontri precisi. Quindi le conversazioni con Lucidi sono state per me un secondo incontro. L'immagine che avevo in quegli anni di Saussure era l'immagine vulgata tra chi in Europa si ricordava e negli Stati Uniti si ricordava di Saussure, l'immagine di un linguista che insiste sul primato della langue rispetto alla parola. Punto di vista che a me sembrava criticabile, sembrava criticabile perché accettavo le critiche a questo punto di vista fatte da Pagliaro. Ancora nel 1963 mi è capitato di scrivere nella prefazione a un mio libro uscito quell'anno, Storia linguistica dell'Italia Unita, di scrivere che bisognava ribaltare questo punto di vista sossuriano, la lingua che schiaccia chi la usa, gli utenti della lingua marginalizzati. Questo era quel che si pensava e si diceva e si ha in parte continuato a dire, ma sappiamo che non era questo, era quasi l'opposto, oppure francamente era l'opposto il punto di vista reale di Saussure e del resto sarebbe bastata una lettura più attenta dello stesso testo tradizionale del Cour per rendersi conto della cosa. Ma l'ipnosi dell'immagine di un Saussure teorico del sistema e in nome di questo disattento al ruolo della parola degli utenti, di questa ipnosi era fortissima. Forse avrei conservato ancora a lungo questa subalternità ipnotica se per fortunate contingenze non mi fossi messo all'opera per tradurre e commentare in italiano il corso di linguistica generale. Fortunate contingenze, voglio ricordarlo ancora una volta, perché in una fase in cui sembrava agli editori più attenti, interessante pubblicare libri di linguistica, dalla casa editrice La Terza mi fu proposto di pubblicare una traduzione del corso di linguistica generale. Io a mia vergogna risposi all'inizio sdegnosamente dicendo ma chiunque, ricordo di aver affermato e ho raccontato altrove di aver affermato, chiunque in Italia si occupa di linguistica legge e pratica il corso di linguistica generale. Lì per lì l'editore Vito La Terza mi dette credito, però dopo qualche settimana tornò insieme al suo direttore editoriale dell'epoca, che si chiamava Donato Barbone, tornò sventolandomi una letterina dell'editore Pajot. La Terza non si era fidato della mia perentoria affermazione e ho chiesto a Pajot qual'era la diffusione, qual'era stata e era la diffusione in Italia del corso di linguistica generale. In quegli stessi anni, i primi sessanta devo dire, che ricomincia in Francia la fortuna editoriale del CUR, che aveva avuto un lungo languore, non è appunto già accennato e ricostruito questa sostanziale sfortuna del CUR fino ai primissimi anni sessanta, fino alle discussioni anche contese tra Martinet, Benveniste, Jacobson, che riaccendono l'interesse dei linguisti francesi per il CUR. Comunque Pajot aveva fatto la sua brava indagine e aveva risposto che il CUR di linguistica generale in Italia non aveva venduto poco più che una dozzina di copie negli anni, tra la riedizione 1922 e gli anni sessanta. Oggi questo può sembrare, uno può pensare che ci siano altre fonti per acquistare, che non siano documentabili attraverso acquisti in libreria del CUR o di un libro. Per sue ragioni di latinista e di studioso, Robert Godelke era venuto all'Istituto Svizzero, per un periodo di studi, mi cercò, mi contattò, mi parlò e gli dissi che avevo questo impegno e Godel stesso mi offrì la possibilità di mettermi in contatto con Rudolf Engler, che stava preparando la sua edizione critica, che era già molto avanti. Le colonne erano già, tra 63 e 65 erano già tutte le varie colonne di cui è costituita l'edition critique, erano già tutte pronte. Mi misi in contatto con Engler per chiedergli qualche suggerimento. Engler, con una generosità di cui non ci sarò mai abbastanza grato, mi misi a disposizione le bolse dell'intera edizione critica. Quindi ho potuto lavorare già disponendo dell'edizione Engler e mettendola a frutto. E anche grazie alle conversazioni con Godel, con Engler, con gli altri studiosi ginevrini e svizzeri dell'epoca più attenti, lucidi purtroppo intanto era morto, ho potuto riorientarmi completamente, credo, nell'avvicinarmi al pensiero di Sossur. E quindi poi ho finito il mio lavoro nel Sossuriano nel 1967 e questo è stato l'inizio di un rapporto continuo col pensiero sossuriano. Un mio alunno molto bravo, Giuseppe Dottavi, mi ha chiesto di recente se io non metto troppo De Mauro in Sossurre. Non credo, non credo. E invece certamente mi piacerebbe che ci fosse molto Sossurre nelle cose meno indecorose che mi capita di scrivere. Nella linguistica in senso stretto non ci sia autore al quale mi capiti di tornare così continuamente, così spesso, per cercare di capire qualche punto del suo mobile pensiero. Tra i non linguisti in senso stretto, certo, ci sono altri, a cominciare da Wittgenstein, a continuare naturalmente col mio professore linguista, naturalmente Pagliaro, ma devo confessare che torno più spesso sulle pagine di Sossurre che non su quelle di Pagliaro e forse anche su quelle di Wittgenstein. Io credo che i cambiamenti di atteggiamento, o come pomposamente si potrebbe dire, di paradigma negli studi sul e del linguaggio, e siano importanti, l'emergere di orientamenti diversi nella corporazione dei linguisti, certo è qualcosa di ragguardevole, ma nella loro lunga storia gli studi linguistici sono debitori più che a soprassalti endogeni, ai grandi mutamenti, alle grandi spinte che vengono dalla vita delle società e delle culture intellettuali complessive che se ne sprigionano. Ricordo, ribadisco questo punto di vista che mi permetto di avere, di enunciare, perché ho l'impressione che Sossurre possa insegnare molto oggi, oggi più che in passato, in un passato immediato. Perché? Perché la forza degli eventi, direi, ha costretto, negli ultimi anni, ha costretto i linguisti a ripensare a un'idea che avevano in testa, ed era quella di un doppio monolitismo, monolitismo del rapporto tra lingue e paesi del mondo, monolitismo della lingua in se stessa. Si può documentare, guardando i repertori degli anni 60-70, i repertori di lingue del mondo, che per i linguisti era pacifico che in ogni paese ci fosse una lingua e una sola. con l'eccezione della Svizzera, insieme alle vacche, agli orologi, alle banche, la Svizzera si contrassegnava per questa stranezza di avere più di una lingua, ma strano, ma isolato. Non solo la produzione di un grande repertorio col sistema wiki, quindi con un largo apporto e collaborazione, che è etnolog, ha cambiato le cose. Etnolog è stato possibile perché le cose stavano cambiando, perché nella realtà, per tanti motivi, da rivendicazioni di natura politica o civile dei diritti delle minoranze, a tanti altri fenomeni oggettivi, è ormai chiaro che i paesi in cui si realizza quella strana idea che avevano i linguisti, a ogni paese una lingua, a ogni lingua un paese, i paesi in cui qualcosa del genere in parte quasi si verifica sono una eccezione minoritaria e che la norma vede in ogni paese del mondo la compresenza di numerose lingue native. Insisto su questo perché poi la grande ondata migratoria che si sta verificando in tutti i paesi del nord del mondo, proveniente dal sud e dal sud-est rispetto all'Europa, ma dal sud del pianeta, e questa sta poi portando in tutti i paesi una grande quantità di lingue non native diverse. E questo è sotto gli occhi di tutti. Così come sotto gli occhi di tutti che in ogni paese ci sono, non solo in Svizzera, ci sono tante lingue, nel senso ampio del termine e anche nel senso restrittivo di lingue scritte, di lingue non solo di dialetti o dialettacci, come qualcuno qualche anno fa diceva. Insomma, è la realtà del multilinguismo che ci si impone. Una realtà ovvia, se appunto consideriamo che le lingue del mondo oggi vive, censite da Itnolog, sono ormai arrivate a quasi 7.000, poco meno di 7.000, e che i paesi che hanno un seggio alle nazioni unite, le nazioni, i paesi del mondo, sono poco più di 200. Basta fare un conto, ci si rende conto che qualsiasi paese ha in sé mediamente una trentina di lingue diverse. Certo, molte di queste sono dialetti, ma sappiamo che sono oltre 2.500 le lingue che sono anche scritte, che quindi hanno una solidità e una dignità, ma su questo forse avremo tempo di tornare rapidissimamente tra breve, una dignità non inferiore a quella delle grandi lingue di cultura, di circolazione internazionale. Dunque, multilinguismo, da una parte. dall'altra gli esiti dello strutturalismo e la forma estrema che lo strutturalismo ha assunto. Su questo punto condivido la tesi di un nostro linguista, di Giulio Lepsky, la forma estrema che a mio avviso è stato il generativismo ciomschiano. Ecco, gli esiti di queste posizioni siano o no diverse, strutturalismo classico e generativismo hanno prodotto una grande quantità di descrizioni di lingue. e noi dobbiamo a questo, paradossalmente, in parte paradossalmente, la percezione sempre più accentuata del carattere tutt'altro che strutturale e generativo delle lingue. Ciò che è andato anche in crisi non è solo l'idea che ogni paese ha una lingua e una sola, ma è anche l'idea che la lingua sia qualcosa di monolitico e di chiuso. Vediamo oggi abbastanza diffusamente e percepiamo e siamo in grado di dare conto di fenomeni di oscillazione continua nell'uso linguistico. ci aiuta anche naturalmente da qualche anno lo sviluppo delle tecnologie. I linguisti 50 anni fa quando io oramai senescente cominciavo a studiare avevano a disposizione fondamentalmente documenti scritti. certo, potevamo andare in giro e su questo tornerò a raccogliere l'uso parlato ma a raccoglierlo trascrivendolo filtrandolo attraverso faticose trascrizioni. Insomma, il mondo del parlato era un mondo magari vagheggiato magari idoleggiato nelle prefazioni o nell'ideologia ma in realtà la documentazione che avevamo era scritta di tutte le lingue. Oggi ci aiuta molto la tecnologia che ci mette a disposizione fiumi di documentazione del parlato. Per lo scritto ci aiuta naturalmente internet che ci mette a disposizione masse esterminate di documenti per ogni lingua per verificare anche nello scritto ciò che il parlato rivela in modo sfacciato impudico la natura oscillante di campo di battaglia tra tendenze opposte di ciò che diciamo una lingua. In altre parole ciò che chiamavamo una lingua e che i vecchi vedevano come qualcosa di monolitico e oggi tendiamo a vederla come tra fine Ottocento e primi anni del Novecento la vedevano lucidamente Hugo Schuchert e Ferdinand de Sussure. se si rivaglia punti più che al CUR ma anche leggendo leggendo queste luci nuove che ci vengono dalla contemporaneità dalla realtà dei fatti linguistici non dei fatti della linguistica leggendo il CUR così come ci è stato consegnato dagli editori è chiaro che anche se questo era sacrificato nella edizione tradizionale è chiaro che il CUR vede dice ripetutamente che ciò che chiamiamo una lingua può essere è un traguardo verso cui convergono possono convergere in modo mutevole contraddittorio insiste su questo i parlanti la lingua è la sedimentazione idealizzata o idealizzabile di bisogni espressivi che animano le parole e l'esprimersi degli esseri uomini concreti e specialmente nelle lezioni del terzo corso dell'ultimo dei tre corsi di linguistica generale sul signore è molto esplicito su questo punto sulla natura di equilibrio instabile temporaneo che si realizza nell'incontro scontro tra le tendenze che guidano i parlanti nel loro esprimere e nel loro comprendere e spiega anche bene riprendo l'accenno che facevo prima spiega bene che le lingue scritte per tanti motivi di tecnica dello scrivere possono mascherare possono mascherare in parte la natura è continuamente oscillante dei punti d'incontro dei traguardi diciamo a cui tende l'uso dei parlanti effettivi di una comunità possono dare un'impressione di stabilità nello spazio e attraverso il tempo ma dice esplicitamente questa impressione di stabilità è illusoria sotto è come un fiume il ghiaccio su un fiume ghiacciato sotto c'è il fiume che scorre l'uso mutevole e impetuosamente sempre diverso dei parlanti sta sotto la crosta di ghiaccio apparentemente stabile dell'uso scritto e ogni tanto non può succedere altro che una frana che agli occhi dello storico dei fatti linguistici si presenta come una frana improvvisa e imprevista in realtà nell'uso erano andate maturando le condizioni che poi vediamo emergere anche nelle lingue scritte come all'improvviso questa visione di di sossiori la lingua come limite verso cui convergono gli usi concreti dei parlanti beh mi pare che possa servirci molto come bussola per orientarci in ciò che sta succedendo nelle realtà linguistiche di tutti i paesi del mondo oggi e rivelarsi una bussola utile molto di più della a mio avviso ormai obsoleta immagine della lingua monolitica della lingua algebra immobile che ci consegnava lo strutturalismo classico in buona parte e il generativismo ormai protogenerativismo si può dire del giovane Chomsky e dei chomskyani negli anni 60 70 del 900 che anche loro hanno cambiato anche in parte per merito loro proprio dello sforzo di dare conto della lingua come di un'aritmetica per merito loro tutte le eccezioni per dire così a questa visione sono venute in primo piano e oggi credo che siano sotto gli occhi di molti linguisti dunque una linguistica che si apra molto di più come tanti fatti suggeriscono alla moltiplicità di lingue coesistenti e ai fenomeni di oscillazione che si accentuano anche per questa coesistenza ma non hanno bisogno della coesistenza per verificarsi le oscillazioni degli usi linguistici della coesistenza di lingue diverse sono intrinseci al bisogno espressivo dei parlanti e quindi intrinseci a qualsiasi realtà linguistica mi pare che Sossuor possa parlare a chi vuole aprirsi alla descrizione all'analisi dei fatti linguistici dell'oggi in modo più produttivo di quanto non fosse in passato la lettura del Sossuor che aveva un'idea di sistema che schiacciava i parlanti è comunque falsa rispetto ai testi Sossuoriani che sempre meglio abbiamo esplorato in questi ultimi 40-50 anni ci si può chiedere perfino se quella lettura della vulgata non abbia potuto sussistere perché faceva corpo in qualche modo con quella che ho chiamato la visione della lingua come monolite mi chiederei oggi questo ma forse qualcosa di cui dobbiamo discutere oggi certamente quella visione della lingua come monolite non l'abbiamo più credo sempre di meno fa presa su chi si occupa di linguistica e quindi si apre una nuova stagione per la lettura e l'utilizzazione della lettura del corso di linguistica generale nei paesi in cui Sossuorio è arrivato perché certamente dobbiamo fare i conti che col fatto che mentre nei paesi europei di lingua slava nei paesi di lingua tedesca nella stessa Svizzera in qualche misura in Francia in Spagna in Italia in Romania nell'America Latina Sossuorio è arrivato e circola e nel mondo in parte anche britannico ma certamente statunitense nel mondo anglofono Sossuorio circola poco e male ed è un peccato perché poi i grandi centri di ricerca anche per la linguistica sembrano collocarsi soprattutto nelle università degli Stati Uniti e questa scarsa circolazione di Sossuorio non agevola sviluppi positivi delle indagini ma nei paesi in cui Sossuorio arriva è arrivato la linguistica può avvantaggiarsi di un nuovo rapporto con le idee autentiche di Sossuorio